Si chiama Mohamed Moguchkov, è un ragazzo di 20 anni di età, di origini cecene, il quale ha fatto un attentato in un liceo della Francia, precisamente a Darras o Darras, dove pensate un professore è stato ammassato a coltellate da costrui. E' un aggressore di 20 anni, ripeto, si chiama Mohamed Moguchkov, urlè ceceno, il quale avrebbe urlato a gran voce Allah Akbar. Ci sarebbero anche due feriti ravi oltre alla morte di questo docente, professore. Stamattina Darras in un liceo nella parte settentrionale del paese in questione, ubicati in Francia. Una vicenda questa incredibile, le autorità competenti lo hanno finalmente bloccato, c'è stato paura, paura, terrore, preoccupazione. L'uomo è entrato infatti in liceo Gambitta-Carnot-Darras. Coltello ha attaccato molte persone, due feriti e il professore ammassato a coltellate. Ringrazio per l'ascolto e per la visione un attentato terroristico, bello e buono. Tra l'altro è presente anche un video sul web che è diventato virale e che non è adeguato ad un pubblico particolarmente sensibile a vedere immagini terribili e devastanti. Ciao a tutti da Nara 2.